Andiamo ora in questa sezione a mettere in pratica un po' tutto quello che abbiamo imparato unendo le conoscenze di base con qualche effetto che ancora non vi ho mostrato ma che nel corso di queste lezioni vi mostrerò Cominciamo dal creare una mappa animata pensiamo di avere una mappa di una città ad esempio e voler animare un tracciato su di essa Bene, allora per prima cosa io ho scaricato da internet una mappa di una città e andiamo ad inserire all'interno di una nostra composizione In primis decidiamo che di aprire una composizione vogliamo farla non in full hd ma in 1280x720 così vado a cambiare anche le impostazioni della mia composizione decido che deve durare 5 secondi e non 8 la chiamiamo scena mappa e clicchiamo invio così facendo abbiamo creato la nostra composizione adesso ho importato la mia mappa, la trascino nella mia timeline e la mappa è più piccola rispetto alla mia composizione quindi cosa andrò a fare? Andrò a scalare la mia immagine per riempire tutto lo spazio in questo momento io ho scalato manualmente aumentando il valore di scala ma c'è un'altra possibilità facendo tasto destro sul nostro livello ci comparirà un menu a tendina adesso per comodità sposto la timeline in alto così potete vedere anche voi e in questo menu a tendina troviamo una serie di funzioni una di queste funzioni troviamo sotto la voce transform quindi trasforma possiamo decidere di far aderire la nostra immagine alla composizione secondo tre criteri secondo il criterio dell'altezza quindi prenderà l'altezza della nostra composizione ci piazzerà e scalerà il nostro contenuto facendo rimanere nel mio caso specifico destra e sinistra vuoti e quindi non mi sta bene dagli soltanto il comando di adattarla alla composizione ma la adatterà strecciando l'immagine oppure adattandola secondo la larghezza secondo l'altezza oppure secondo la larghezza ed è questo il parametro che a me interessa cliccando questo pulsante in automatico After Effects farà un calcolo della scala da applicare e andrà ad applicare la scala alla mia immagine ora stiamo guardando la nostra immagine che è già bassa risoluzione di suo rispetto alla nostra composizione ma la stiamo guardando con una risoluzione inferiore questo perché all'interno della nostra barra della composizione abbiamo la possibilità di scegliere la qualità con cui vedere la nostra composizione per velocizzare o meno quelle che sono le anteprime dato che stiamo lavorando con pochi elementi possiamo mettere qualità full così da vedere il risultato finale della nostra animazione ora abbiamo il livello di base con le nostre modifiche apportate ora dobbiamo andare a creare il nostro tracciato quindi la linea che dovrà seguire il nostro percorso per indicarci la strada per realizzarlo creiamo un nuovo solido di un colore a caso e lo scriviamo tracciato perfetto abbiamo creato il nostro solido adesso dalla nostra timeline disattiviamolo così abbiamo il livello attivo ma non visibile zoomiamo e andiamo a disegnare il nostro percorso come? disegniamolo con il pen tool ora è importante tenere selezionato il nostro livello in questo caso il livello tracciato si chiama e andiamo a disegnare il nostro percorso diciamo che deve arrivare qui l'auto poi deve girare di qua poi deve andare di qua poi facciamo fare questa curva poi quest'altra curva arrivare qui poi ancora qui 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 insomma disegniamo un eventuale percorso da fare l'importante come ho sempre detto è la direzione del percorso quindi se abbiamo cominciato a disegnare da questo punto e abbiamo terminato qui la direzione del nostro tracciato sarà esattamente questa quindi se volete animare lungo un percorso al contrario mi raccomando nel disegno cominciate a disegnare al contrario ora abbiamo questo tracciato disegnato su questo livello solido infatti adesso lo andiamo a riattivare e vediamo che all'interno del nostro livello troviamo una maschera che è esattamente questa ora andiamo nel pannello degli effetti e cerchiamo l'effetto stroke in inglese oppure traccia questo effetto lo troviamo anche se andiamo nel pannello effetti selezionando il nostro livello nella voce genera dove si trova eccola qui troviamo la voce stroke cliccando su stroke applichiamo un effetto che ci dà la possibilità di gestire una linea lungo un tracciato che noi abbiamo disegnato quindi una maschera in automatico lui ci chiederà qual è il percorso in automatico lui ha preso l'unica maschera disponibile ma possiamo nel caso avessimo più maschere andare a selezionare quella che ci interessa oppure dirgli di utilizzare tutte le maschere e quindi animarle tutte quante insieme ora abbiamo una serie di parametri uno è il brush size quindi quanto deve essere doppia la nostra linea diciamo che vogliamo che sia almeno di 5 punti bella grande così la possiamo vedere poi possiamo decidere quanto sia sfumato quanto sia netta in questo caso ad esempio io voglio che sia molto netta possiamo decidere l'opacità 100% mi sta bene abbiamo la spaziatura tra i vari punti perché dobbiamo considerare che queste linee sono composte da punti quindi noi possiamo andare ad aumentare la spaziatura per vedere una linea tratteggiata oppure per vedere una linea intera possiamo tranquillamente mettere la spaziatura a zero abbiamo altri due parametri il primo parametro è quello di start e il secondo è quello di end questi due parametri sono i parametri che andremo ad animare per creare la nostra animazione il primo parametro quello di start ci permette di diminuire dal punto di partenza il nostro tracciato l'altro invece ci permette di farlo dalla fine e noi utilizzeremo esattamente questo quindi partiamo portiamo il nostro valore a zero clicchiamo con lo stopwatch ci spostiamo alla fine della nostra composizione e riportiamo il valore a 100 facendo in questo modo noi abbiamo creato il nostro percorso ma come facciamo adesso a vedere il nostro percorso sulla nostra cartina beh innanzitutto abbiamo abbiamo l'ultima opzione che è il paint style cioè come viene disegnata abbiamo tre opzioni possiamo fare in modo che questa linea venga generata sull'immagine originale quindi sul nostro solido su uno sfondo trasparente oppure possiamo fare in modo che questa linea riveli come fosse una maschera l'immagine del solido faccio un esempio se clicco su trasparente noi vedremo quella che è la nostra linea che andiamo a colorare di nero ad esempio così è un colore che riusciamo a vedere vedremo il nostro percorso sotto forma di tracciato che si disegna sulla nostra immagine se invece seleziono rivela immagine originale la nostra linea verrà utilizzata per mostrarci quello che è il nostro solido che avevamo sotto quindi se io ad esempio aggiungo al nostro solido una sfumatura e l'aggiungo prima della linea la sfumatura del nostro solido disattivo l'effetto abbiamo aggiunto una sfumatura che da nera va a bianca possiamo animare i parametri di questo effetto molto semplice animiamo e muoviamo il parametro di inizio e di fine riattiviamo il nostro stroke e vediamo che la nostra linea è caratterizzata da questa sfumatura del nostro gradiente che abbiamo applicato poco prima quindi queste sono le varie opzioni quella che io utilizzo più frequentemente è su trasparente perché così mi dà il controllo tramite questo colore posso decidere che sia rosso bordeaux o quant'altro io ho realizzato la mia animazione un'altra cosa particolare che possiamo andare a fare è modificare quelli che sono i keyframe quindi andiamo nel nostro pannello della timeline effetti troviamo l'effetto stroke e troviamo tutti i parametri animabili e i nostri due keyframe che abbiamo generato io cosa faccio una cosa molto simpatica mi avvicino il keyframe di fine quindi lo facciamo finire prima la nostra animazione così che sia più veloce e vado ad animare l'altro parametro che è quello dello start quindi gli dico che dopo un secondo che è partita l'animazione voglio che questo parametro parte da zero e un secondo dopo la mia la fine del mio tracciato questo parametro diventi 100 cosa succederà quindi che in pratica avremo una sorta di serpentello che si muove sul nostro tracciato animando due semplici parametri naturalmente questo è solo un esempio di come poter applicare le conoscenze che abbiamo appreso mediante l'utilizzo di un effetto e qualche keyframe di un effetto di un effetto di un effetto